La Fondazione Spino Labana per l'Arte è nata nel 2005 e la sua attività principale è la promozione dell'arte contemporanea tramite workshop, seminari, conferenze per cercare di aumentare la consapevolezza nel pubblico normale delle tematiche filosofiche, teoriche legate all'arte contemporanea. Comunque la nostra attività principale è l'organizzazione di workshop intensivi per giovani artisti under 35 tenuti da master internazionali di mezza carriera ma di fama riconosciuta. A questa attività abbiamo aggiunto poi nel tempo due workshop brevi perché abbiamo cercato di dare una visione più ampia di quello che è la formazione. Formare dal nuovo i 16 artisti che vengono in residenza due volte l'anno. Noi possiamo ospitare otto artisti per corso che vengono selezionati da noi in base al loro curriculum e in base diciamo a quello che noi pensiamo sia adatto al master che viene ad insegnare in quel periodo. nel frattempo abbiamo comunque deciso di continuare a dare opportunità agli artisti che sono già passati nei workshop intensivi negli anni precedenti e di creare questa formula di workshop brevi che durano una settimana l'uno uno con un curatore internazionale anche quello diciamo di fama internazionale non necessariamente internazionale in quanto geografia perché comunque nella formazione di un giovane artista il rapporto con un curatore è sicuramente molto importante perché loro saranno comunque devono abituarsi appunto ad avere il rapporto con i curatori, sapere come mostrare il proprio lavoro, che cosa un curatore chiede e cose di questo genere e poi di artisti che hanno una base teorica molto profonda rispetto al loro lavoro per cui quest'anno per esempio i due workshop intensivi sono ottenuti da Lille Dar che questo giovane fotografo americano in pochissimo tempo ha raggiunto una fama internazionale quasi strabiliante perché lui è stato l'assistente di Larry Clark per molti anni il secondo master sarà Massimo Bartolini che tutti conosciamo i workshop brevi saranno ottenuti da Andrea Vigliani che è il direttore della Galleria Civica di Trento e The Hot Lead Group che sono questo gruppo inglese in realtà formato da due persone venuti alla ribalta soprattutto nel 2010 perché sono stati nomini al Turner Prize e adesso a settembre dopo il nostro workshop faranno una personale al Maxi di Roma per cui a grandi linee questa è la nostra attività La selezione avviene tramite un open call, cioè il primo step è un open call che noi facciamo verso la fine dell'anno, diciamo più o meno a dicembre questa open call viene veicolata da archivi importanti che hanno un database comunque di grande qualità come via Farini a Milano per esempio noi non abbiamo mai speso soldi in comunicazione e il fatto che qui vengano gli artisti, anzi mandino il loro portfoglio per un passaparola cioè questo è proprio un passaparola fatto dagli artisti agli artisti per cui anche questo è importante perché vuol dire che gli artisti riconoscono che questo è un posto insomma più speciale specifichiamo ovviamente nel bando chi sono i visiting professor dei due corsi intensivi e la data di consegna dei portfoglio che in genere è il 30 di gennaio a questo punto incominciamo la selezione incominciamo la selezione che viene fatta a volte da me con un curatore a volte per la maggior parte da me con il consulente scientifico della fondazione che è Guido Costa e i criteri beh i criteri innanzitutto sono qualitativi comunque ci deve essere una maturità di linguaggio infatti noi cerchiamo di specificare nel bando che bisogna avere un minimo di curriculum per cui i criteri sono come ripetevo prima qualitativi rispetto al linguaggio e rispetto anche alla proprietà con cui si usano i materiali e poi cerchiamo di essere molto attenti a cosa per esempio ogni singolo artista che presenta il suo profoglio può come dire ricevere da quel particolare master perché a volte c'è successo dove magari la ricerca non era così la ricerca dell'artista non era qualitativamente così premiante però trovavamo una grande consentaneità con il lavoro del master oppure la possibilità decisamente di migliorare cioè di avere degli stimoli e degli spunti che potessero essere poi importanti per le loro carriere è un lavoro lungo è un lavoro lungo e difficile perché adesso quest'anno abbiamo riso perché abbiamo messo lo sbarramento della lingua inglese perché noi continuiamo a cercare di convincere i ragazzi che se non sanno l'inglese è una tragedia perché ormai ci si muove in quella lingua i testi più importanti sono in quella lingua i curatori più importanti sono di lingua magari non ma da lingua inglese ma parlano l'inglese se uno si vuole muovere deve sapere l'inglese per cui ci siamo anche un po' stufati se vogliamo che non è proprio propriamente la parola giusta ma è la realtà di chiamare magari artisti internazionali che parlano italiano perché a un certo punto la ricerca finisce per cui quest'anno abbiamo chiamato lì perché ci sembrava interessantissimo averlo qua e abbiamo messo uno sbarramento e devo dire che le domande sono state molto meno Sinceramente i risultati che noi abbiamo ottenuto in cinque anni di attività sono stati così soddisfacenti che neanche noi effettivamente ce lo potevamo immaginare perché questa formula ha funzionato questo è quello che possiamo dire questa formula di residenza ha funzionato perché diciamo la possibilità di vivere in un luogo di questo genere che diventa un po' una grande bolla se uno vuole perché poi non è obbligato ovviamente a stare qua se uno vuole poi andare a Torino ci va non è questo però la possibilità di vivere in questa campagna come dire lontano un po' da tutto in questo luogo che è un luogo che stimola la riflessione il pensiero eccetera la possibilità di avere un rapporto così profondo con un visiting professor perché il gruppo comunque è relativamente piccolo è un gruppo giusto perché noi abbiamo capito che è molto importante anche la dinamica del gruppo cioè se poi il gruppo si unisce e diventa quasi un corpo unico funziona meglio nel senso che se sono compatti e se sanno gestire all'interno del gruppo le dinamiche che naturalmente vengono fuori questo dipende appunto dal carattere di ognuno però se si scatta questa scintilla dello stare in comunità e dello stare in comunità seriamente non forzatamente allora questa è veramente una grande occasione perché c'è un continuo flusso tra i personaggi che partecipano al workshop il visiting professor normalmente in questo caso è ovviamente più coinvolto per cui dà molto di più è più generoso a parte che noi abbiamo avuto sempre visiting professor incredibilmente generosi e per cui fino ad ora possiamo dire abbiamo avuto solo un'esperienza molto negativa con un artista per il resto è tutto sempre andato bene poi ovviamente ci sono gruppi e gruppi gruppi più facili gruppi meno facili però normalmente questa scintilla scatta e spesso quando finiscono il corso continuano questa rete che è un'esperienza molto interessante Artisti che si sono particolarmente distinti, beh, devo dire che ce ne sono parecchi, soprattutto negli ultimi due anni. Beh, parliamo del caso De Serio, chiaramente forse il caso più clamoroso. Adesso addirittura Gianluca e Massimiliano sono stati nominati a Cannes per un certain regard. Noi abbiamo avuto un artista guatemalteico che si chiama David Perez Carmadavis che adesso rappresenterà la Repubblica Dominicana alla Biennale di Venezia. E per lui il worship è stato proprio un grosso scatto. ce lo continua a dire, ce lo scrive, per cui non è che lo immaginiamo noi. È lui che ce lo dice. Poi ci sono altri artisti che si sono distinti, per esempio Ludovica Carbotta, editorino, che ha fatto il primo workshop della Fondazione con Alberto Garutti, che è un incredibile formatore. Ludovica sta avendo un grosso successo perché ha fatto adesso Greater Torino alla Fondazione Sandretto Rerebaudengo, poi per esempio adesso è al premio Ariane de Rothschild, per esempio. Un altro artista torinese che ha fatto il workshop con Adrian Paci e che veramente anche quello è un caso molto bizzarro. Era nato Leotta che oltre ad essere artista si occupa anche di cripta, questo spazio autogestito da artisti. E Renato per esempio durante il workshop era sempre silenzioso, ha fatto un lavoro molto enigmatico, interessante ma molto enigmatico. Adesso è proprio cambiato, il suo lavoro ha assunto comunque delle caratteristiche di spessore anche artistico completamente diverse e anche lui ha partecipato a Guarene per esempio alla mostra l'altro anno della Fondazione Sandretto che è stato curata dai curatori in residenza. Adesso anche lui ha il premio Ariane de Rothschild, ha fatto l'altro anno il raccolto d'autunno e abbondante in Via Farini curato da Milo Van Farronato. Per cui insomma si stanno vedendo delle cose. Poi altri artisti, per esempio Danilo Correale è un altro che ha partecipato a Grenoble alla mostra sugli artisti italiani, adesso anche lui è presente al premio Ariane de Rothschild. Per cui diciamo che per esempio a questo premio comunque sono presenti otto artisti nostri su sedici e questo ovviamente per noi è una grandissima soddisfazione perché vuol dire che comunque abbiamo dato poi sicuramente è anche dovuto a loro questa fama e questo arrivare in posti comunque che sicuramente li fanno crescere. però io ho anche la convinzione che insomma passare da qui non è stato banale nelle loro carriere tant'è vero che comunque loro lo sottolineano sempre nei loro curriculum.